Cristian, sei al Sarnico da sei stagioni, questo è il tuo sesto anno, è stata un'avventura molto lunga e penso molto bella, ti chiedo di raccontarci in breve come è stato questo tuo cammino. È stato molto bello e devo davvero dire grazie a questa squadra perché mi hanno aiutato tanto a crescere, penso che sia stata una delle scelte migliori, quella di venire qua, ormai sei anni sono lunghi e penso che non potrei mai dimenticarli ovunque io vada. È stato un percorso di crescita che mi ha davvero aiutato tanto, spero di far vedere chi sono.